Una manifestazione che ci vede ritornare indietro nel tempo e raccogliere ancora tutto quello che è il folklore e la tradizione siciliana, Ibla Bardata, c'è anche l'Agnalola, quindi meglio di così. Avete visto i carretti siciliani, avete visto anche gli abiti tipici di una Sicilia del 1700-1800? Sindaco, è veramente un bel momento, Ibla è stracolma. Sì, un'iniziativa riuscitissima, dobbiamo ringraziare i commercianti, il centro commerciale naturale Antica Ibla, sono stati loro a organizzare, noi abbiamo dato un supporto, ma davvero un'atmosfera speciale oggi, tanta gente, molti giovani, anziani, gente che ha voglia di divertirsi, ma soprattutto un'atmosfera veramente magica, in mezzo a carretti decenni e secoli passati sembrava veramente di stare in un altro mondo, però tutto con raffinatezza, grande eleganza, compostezza, attori bravi, musicisti, davvero un poeniggio speciale questo di Ibla. Da ripetere sicuramente, per quello che riguarda noi lo siamo assolutamente d'accordo, magari chissà, è la prima edizione di una lunga serie, dalle volte succedono a Ragusa queste cose, si parte così per provare alcune cose e poi diventano seriali, si vede che funzionano e vanno bene. Io credo che questo tipo di evento funziona a presa sulla gente, attira persone. Alla gente piace. Alla gente piace, è Ibla piena, le strutture hanno lavorato tutto, diciamo al primo ottobre che non è scontato che succeda, quindi certamente è un'iniziativa da ripetere. Non so se posso sentire anche l'Agnalola che appunto, cioè veste, ecco l'abbiamo voluto chiamare così perché appunto parlavamo di compare turidio, di cavalleria rosticana, vestire i panni di un personaggio insomma molto forte, importante. Ma che rappresenta comunque in generale proprio l'identità siciliana, infatti quest'abito è stato realizzato a mano da Loredana e quindi è manifattura artigianale perché proprio siamo in tema con l'artigianato che era anche questa la volontà del festival di riportare in auge le antiche tradizioni che oggi si stanno perdendo e di far rivivere quindi la Sicilia di un tempo ai visitatori di oggi. Quindi c'è stato uno studio dietro diciamo per l'avvigliamento e anche così come avete visto i carrettieri vestiti a festa e così anche il mio abito. Grazie